Io rappresento la società Elispin, è una società nuova con dei principi nuovi. Il nostro scopo è di fare esperienza a una persona, non nel classico volo turistico di vedere la città, ma di fare proprio l'esperienza di tenere i comandi di un elicottero, come punto di riferimento il primo approccio di una scuola guida per un'auto. Consiste in mezz'ora di teoria per far conoscere la macchina e mezz'ora di volo, in cui l'allievo comincia a prendere le prime nozioni di come si risponde un elicottero ai suoi comandi. Questo viene fatto presso l'aeroporto di Valbrembo. Facciamo voli per eventi come eventi di compleanni, eventi pubblicitari, scuola di pilotaggio per piloti PPL, che sarebbero piloti privati e piloti commerciali. Il nostro scopo è di divulgare e fare provare l'esperienza proprio del volo con l'elicottero, ed è un elicottero che viene usato molto anche in America per formare i piloti professionisti, perché debbono fare un'esperienza di circa 300 ore su questa macchina prima di passare le macchine più sofisticate. Siamo proposti anche aiutare ragazzi che hanno bisogno di fare uno stage in campo aeronautico. La scuola fornisce cinque anni di teoria, però è allegata anche a due anni di esperienza come master presso una ditta che fa lavoro aereo o costruzioni aeronautiche o società che hanno elicotteri in esercienza e fanno manutenzione.